Ciao, oggi pomeriggio, in questo pomeriggio farò una passeggiata in questa strada abbandonata che non ci passa quasi nessuno, ci viene solo a spasso la gente ai confini del comune di Castelfidardo. Vieni con me, vieni con me, come sempre. Guarda, quella lassù è una casa che ci ho fatto tante volte le registrazioni anche notturni, ma anni fa, tanti anni fa, lì dove ci ho incontrato un'entità molto negativa e molto presente dentro il cuscinino con l'apparnanza, tipo non aprite con la porta, con il macellaro lì, quella volta mi ha fatto un po' un certo effetto, mi ha fatto molto senso. Guarda un po', cosa c'è? Una padella, una padella per terra. Guarda che schifo, tutta rotta, tutta rotta con la padella. Adesso quindi faccio questa passeggiata in questa strada affiancata la statale 16 che collega a Sirolo e Numana. Però sto sempre all'interno del comune di Castelfidardo, tra Castelfidardo e Camerano. Posso notare la discarica. Guarda, c'è delle gomme attaccate sull'albero, c'è la mondezza, la mondezza lì per terra, guarda, i pneumatici per terra, tutta mondezza dappertutto. È un macello, guarda, c'è le ruote dappertutto, guarda, le gomme, guarda un po', c'è due gomme, due cerchi, guarda che roba, è un altro, quattro gomme, quattro gomme e cerchi. Buttie buttate nell'albero. È un macello qui sotto, tutta mondezza, guarda, una discarica, tutti i sacchetti, sacchetti, sacchettini, una pianta buttata lì, vabbè, le piante non fanno inquinamento, vedi, sacchetti della mondezza, di tutti i tipi, pneumatici, una discarica, va, c'è tutti i sacchetti di mondezza e qui hanno discaricato il verde, però, però le buttie, guarda che macello, guarda, guarda che macello, che ingratitudine, che ingratitudine, se senti i cacciatori, è andata oltre una signora che si sta a fermare per vedere quello che facevo, ne sa di fiume qua, ne sa quasi di sbocca, qua un altro po' di discarica, sotto la vegetazione c'è un macello di discarica, si vede, la macchina mia l'ho parcheggiata laggiù, speriamo che nessuno la spacca, nessuno gli dice niente. Guarda che discarica qua, porca miseria, che macello, guarda che macello, pare da sta a Roma, pare da sta a Roma, sa tutti i sacchetti di mondezza, guarda quanti ce n'è, buttati dietro le piante, che capito, occhio non vede, corre non dole, anche altri pneumatici in mezzo al suo bosco, che peccato, che delusio, che delusio, guarda che campi belli qui per andando umana, se sente il cacciatore che spara, hai volatili, e niente di fatto, niente di fatto, qui la strada, vedi, non ci passa quasi nessuno, c'è campa, te c'è la casa, c'è campene, è andata di oltre, quella signora è andata oltre, sei insospettita a quello che stavo a fare, però alla fine sto a fare solo una passeggiata e basta. Cosa vuoi fare? Che tanto dappertutto c'è le discariche, in due che vai c'è le discariche, non c'è niente da fare, perché la discarica è soprattutto nei sentimenti, non c'è più in te i cuori, in te i corpi, in bastarditi, niente, sempre quelli i discorsi, alla fine è un disco che gira continuo, sempre quelli i discorsi. Qua c'è tutti i gabbiò, tutti i cappanni, c'è la casa che c'è campene, c'è campene dentro sta casa, dai voglio vedere, però sicuramente c'è, perché prima ho visto della gente dentro lì. Guarda, vedi, gli uccelli fuggene via, fuggene via cogli uccelli, pare rondini, pare nei rondini cogli uccelli lì, com'è possibile le rondini a dicembre? Boh, pare impossibile. Eh, vedi, sta casa chi, sta casa chi, c'è campene, mi pare di sì, 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 c'è un orto che ci avrà nel cavallo, qui ci capisci, ci avrà nel cavallo sta gente, mi pare che c'è uno spiazzale per i cavalli, è tutto chiuso, è una cascina enorme questa qui, guarda che cascina enorme, chissà quanti ladri, quanta gente malintenzionata, c'è bocca tutto un continuo qua, cosa ci capisci, c'è una roulotte, lo sfascio, c'è una roulotte, un bar, però non mi riguarda perché a me non mi deve riguardare queste faccende, perché se non è abbandonato, non mi deve riguardare, qui c'è il cancello, c'è tutto, cos'è un'ape cinquanta, un'ape cinquanta degli anni cinquanta, fa un po' vedere, cos'è, mi ha fatto gli occhi, mi ha fatto, no, è una mastella, è una, è una padella, è una padella, mi pare la scocca dell'ape cinquanta, ti rendi conto che roba, incredibile, c'è campene, c'è campene, guarda lì, mi pare che, pare impossibile che c'è campene lì, mezzo a questa grascia, boh, eppure, una discarica, c'è una sella di un trattorino, un motorino, sì, sì, fammi andare via, c'è campene qui, qualcuno ci starà, non è affari che mi riguarda, chissà dove collega questa strada, mica lo so io, non mi ricordo dove che collega, che bello qui, queste strade qui, non ci sono domani, ieri, ieri sono andato laggiù, la, la valle scura, e oggi, in questa stradina, qui che non ci passa niciuno, e se sta bene un bel po', chissà dove mi collegherà, questa strada qui, a te vedrò, anzi, vedremo, vedremo, io quando ho andocchiato con la casa di campagna rurale lassù, abbandonata da ormai cinquanta, sessant'anni, non si sa quanti anni, e me parea una casa che non sono andato mai, invece dopo ho visto la zona, ho detto, ma lì ci sono andato più di una volta, la prima volta di notte, che ci ho magnato, mi sono autoinvitato, ho magnato un bel panì, pieno di roba, col panì quanto mi ha piaciuto, mi ricordo, però con quell'anima in pena che c'era lì dentro, che me guardava, me spiava, me voleva aggredì, però non mi ha aggredito perché c'avevo la medaglia miracolosa, del collo, e in più c'avevo la croce benedetta, esorcizzata, c'avevo il sale esorcizzato, quindi quell'anima in pena era un diavolo, che me voleva, me voleva fa qualcosa di male, però a me me basta i diavoli vivi, che me vuole ne fa del male, me basta quelli e me avanzani, ecco, vedi, la gente lassù, marito e moglie, non si tiene né per mano quelli, come qui dovecchi là la selva, però già è tanto che vanno in giro insieme, già è tanto, quello invece da tenere la madre e la moglie, la madre non te la cosa lì, te l'umbrello e la moglie non te la saccoccia, vedi, quello c'ha l'illusione, ha visto che è nuvolo, allora c'ha l'illusione che piove, in realtà non fa niente, perché è impaurito dai mass media, dalla meteorologia che ha messo l'allerta oggi, ha messo tanta pioggia e tanta neve, pensa, non fa niente, tutto calmo, non fila in aria, non fila in aria, ora un po' per terra qui, la mondezza sa le butie, la mondezza ha un sacchetto anni sessanta, le butie di birra, qua c'è qua, qua un pezzo di una cuccia di un ca, senti che impesta qui, senti le puzza qui, guarda un sacchetto di mondezza, e niente, sotto la vegetazione è pieno di mondezza, vedi le foglie cascate, perché tanto è autunno, però è autunno senza precipitazioni, io le stagioni senza precipitazioni non lo viste mai, è tutta te, tutta te che vediamo se robe lì, prima non si vedea se faccendi, oh me fai, me fai fa su bisogno, me fai fa su bisogno che non ne posso più, eh, fammi svutare il serbatoio, va, ovviamente l'albero della vita non te lo fa, vedi, perché è privacy, è privacy, adesso ci, adesso ci, oh, finalmente, chi non ci passa niccio, chissà dove collega sta strada, mica ci sono venuto mai, qui non ci sono venuto mai, non ho proseguito mai questo percorso, allora, aspetta, fammi asciugare bene all'aria, all'albero della vita, mi si deve asciugare bene, eh, a posto, vabbè, lo metto dentro, metto dentro il merlo, aspetta, aspetta, fammi, fammi, fammi l'acciaio pantalò, fammi l'acciaio pantalò, un attimo, senti come spara al cacciatore, oh, come spara, a posto, oh, adesso ci, adesso meglio, me so svutato e riprendo il cammino, la salita, puo sta che non c'è da sperimentare niente in questa strada, non ci sono venuto mai, cosa so, vedrò lassù sopra cosa mi ritrovo, guarda che strada, guarda, questa è una strada anni 80, non è stata più asfaltata, è rimasta anni 80, infatti qua c'è cresciuta l'erba, vedi l'erba è cresciuta, quindi questa è tanto che è stata asfaltata, sarà 40 anni che non c'è più una manutenzione in questa strada, mi pare che c'è una casa rurale lassù, chissà se c'è campene qualcuno, guarda un po', c'è una casa rurale, è abbandonata, è abbandonata, pare che ce lo sapevo, chissà se mi conviene a passare della strada di campagna, oppure mi conviene a passare della strada asfaltata, cosa dici, è meglio che passo per i campi oppure non te l'asfalto, boh, fammi passare per i campi, va, che mi piace a me ambuscarmi, ambuscarmi mi piace a me, cosa vuoi fare, sono appassionato come il mammo, al mammo, a mio zio gli piaceva stare in mezzo alla terra, a toccare la terra, a toccare con mano, toccava tutto, toccava il mammo, quindi al ricordo del mammo io mi vado a ambuscarmi un telatera, però mi pare che sento dei rumori, può essere pure che c'è campene, è provabile, perché io, riprendendo, zoomando, ho visto che pare abbandonato, però può essere pure che invece da vicino la casa è abitata, cosa ne sai, cosa ce capisci, può essere pure che è abitata da uno sfullato, c'è tante possibilità, oggi come oggi, capirai, non si sa mai quello che uno si trova, a te mi pare che è tutto allo sfascio lì, è proprio completamente allo sfascio, guarda, è il tetto sci, ancora sci, ancora egge, è un po' sbudellato, però mi pare che come casa è una casa rurale, mi pare nell'abbandono più totale, ce fa pure rima, quindi fammi andare a esplorare, se posso, se posso, bocco dentro e poi riscappo fuori, bocco e scappo, niente o non c'è, non ci sono nessuna precipitazione, non ci sono proprio niente, proprio zero di novità meteorologiche, non c'è niente, nessuna novità, guarda un po' qui, qui c'è passati un sacco di contadini, sai, trattori, tutto un continuo, chi c'è passano, perché hanno fatto un solco, hanno fatto un solco qua, chissà che vergari ci sono qui, ci sarà, ci sarà un magazzino che mettono i trattori qua dentro, i contadini, può essere, è impraticabile abbuccare dentro qua, oh c'è campene davvero, c'è campene davvero, c'è le galline, c'è le galline, oh, vedete le galline che spettano, c'è campene, oh, te l'ho detto, non si sa mai, non si sa mai in questi orti, questi sono, c'è le galline, vedi, guarda che, che disastro sta casa, c'è il contadini qua, c'è il vergaro, più all'acqua dal pozzo, c'è il vergaro, fammi un po' andare via, chi ne va da, chi ne va da tribula, vedi, era bello a bocca dentro sta casa lì, a sperimentarla, però a me a trovare rogne, più di quelle che c'ho non me ne va, vedi che queste orme, è orme fresche, tanto quello deve da pure da mangiare alle galline, quindi ci viene il vergaro qua, ci viene il vergaraccio, eh, allora fammi andare giù per strada, prima che ci viene, ti immagini che a te viene su, mi incontra chi, dice, te cosa ce fai, cosa ce fa lei, sa fare un telema, eh, è andato a documentare quello che non poteva riprendere, che privaci, però i cartelli non c'è, guarda che schifo qui, oh, guarda, guarda tu che schifo, la bocca marcia, guarda, guarda lì, oh, eh, che schifo di marciume, la lingua, un cancro non te la lingua, guarda lì, tutto marcio, il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola, eh, che schifo, che realtà, che brutta realtà, adesso io continuo a andare su, perché non è manco le quattro, è un quarto alle quattro, quindi continuo a andare su, pezzo a strada, e così vediamo cosa mi ritrovo, può essere pure che mi ritrovo qualche altra casa rurale abbandonata, che si può esplorare, e invece bisogna stare molto attenti, perché anche le case che sono abbandonate da tanto, a fianco c'è può essere un gabbiò di galline come questa, che hanno un proprietario, tanto niente, le case è sempre di proprietà di qualcuno, è sempre di qualchi due, anche se abbandonata, anche se non c'è la recensione, anche se non c'è i cartelli, è sempre di qualcuno, quindi bisogna stare molto attenti e prudenti a non andarci a cercarsi i guai. A posto, io adesso sono venuto giù e vado su, per la strada, quindi se non c'è andavo, non potevo sapere che lì c'è campava le galline. Vedi, guarda, ha arrivato su, in questa bella strada, anni Ottanta, sbudellata dal tempo, dall'usura, si è scoperchiata, vedi, va su, va su qui, tutti, è ondulata, si è spostata, il movimento tellurico, e poi è stata risfaldata sopra a pezzi, un disastro sta strada, anzi che regge ancora l'asfalto. Se non c'è andavo, non lo potevo sapere che non era sperimentabile quella casa lì, perché quando meno te l'aspetti, viene il vergaro, dopo ti chiamano a pattuglia, e dopo il cazzo amare. Adè va giù questa strada lì, pensavo che andava sempre in salita, invece va giù, io adesso vedo, vedo se continua o no, perché tanto una passeggiata mi fa bene per la muscolatura, per la circolazione sanguigna, sanguigna, mi fa molto bene a passeggiare, fa bene pure a te, a sempre sta fermo in te la macchina, come dicevo prima, i video in te la macchina stufene, stufene un bel po', te se ti sei stufata, te sei stufato, non ne possi più dei video che fa dentro la macchina, scommetto, pure io mi sono stufato, però, qui c'è poi fa, i miracoli non so fa, falli, vedi, se la guardavo da chissà, a casa, pensavo questa, è allo sfascio più totale, ci posso boccare un attimo a sperimentare, invece no, invece c'è il vergaro, perché dalla parte del campo è aperto, non c'è cartelli, non c'è niente, qua invece c'è una recensione, vedi che c'è la recensione, sta all'occhetto, vedi, il vergaro passa per il campo sicuramente ogni volta, non credo che passa chi apre l'occhetto, passa per il campo, fa prima col trattore e il caretto, niente, dobbiamo noi fare una passeggiata al giorno, se c'è tempo, investire un attimo di tempo per una passeggiata, che ci fa molto bene, chi è che può, e poi così man mano che camminiamo, riflettiamo del più del meno, camminando, così riattiviamo la circolazione del sangue, e facciamo bene al corpo, e cercamo da nutrire sentimenti buoni per la natura, per noi stessi, per gli altri, per l'ecosistema, da essere un tutt'uno con l'universo, un tutt'uno con il pianeta Terra, con la creazione, un tutt'uno, all'unisono, nell'amore, a non avere l'ingratitudine, a non essere ingrati, contro le cose, contro l'ambiente soprattutto, non dobbiamo essere ingrati contro l'ambiente, ecco, una casa abbandonata, vedi, questa è abbandonata proprio, è proprio allo sfaccio, guarda che albero questo qui, va su tutto, se è storto, se è incornicchiato lì, guarda, guarda le pieghe dell'albero, le ciccio su albero, guarda le pieghe, le bello su albero, e questa casa, è bella, è bella questa casa, chi sa, arriva ad andare a esplorare, chissà se c'è il vergaro pure chi, che sistema i gabbiode e gli animali, può essere, può essere pure chi, fammi vedere, fammi andare a vedere, qui è completamente allo sfaccio, qui c'ero andato, mi sa, mi sa che c'ero venuto io qui in questa casa, mi sa di ci, fammi andare a vedere, fammi andare a vedere, tanto c'è la strada, che collega qua giù, qui c'ero venuto io in questa casa, qui nel 2011, è passato il tempo, è passato il tempo, che è una miseria, vedi è aperto, è aperto, tutto aperto, tutto sfondato, questa è proprio completamente, crollata, c'è una discarica, c'è una discarica, guarda un po', guarda un po', c'è la porta aperta, anni 60, la porta anni 60 aperta, dopo dentro c'è una porta anni 40, una controporta, una controporta, chi c'ero venuto, a te mi viene in mente, chissà cosa c'è ho trovato, quella volta che c'ero venuto io, guarda, c'è una padella, quella anni 2000, è una padella recente questa qui, allora ci vengono i vergari, ci vengono i vergari, guarda un po' questa padella, eh, a là, qui c'è dentro col gabbione, non è che c'è, c'è le galline, c'è il vergaro, chi, cosa dichi, cosa dichi, eh, e una miseria che roba, è incredibile, guarda un po', c'è un pneumatico, una vasca come il mammo, qui cosa c'è, l'orto del mammo c'è, sottalì, qui c'è, una scala di alluminio, guarda, una scala, lì c'era, cosa so, i porci, difficile che stava al piano primo, forse i porci stavano ne chi, lì c'era i cuoricini, vedi, c'è il mais, c'è lì per mangiare, e chi, di quant'è che è stato abbandonato, chi, non sarà tanto, sarà vent'anni, sarà vent'anni, qui c'è il fasceve nel pa', ora c'è il forno, vedi c'è il forno, c'è il fasceve nel pa', e qua si può boccare, un po', c'è un pallo anni, c'è un pallo anni 80, eeeh, un pallo anni 80, de Topolino, de Topolino, mondo esclusivo, a Made in Italy, Made in Italy, tenendo conto, guarda, la conformite, du presente, produt, guarda, Made in Italia, c'è scritto un'altra lingua, via, senti il treno che passa là, vado a vedere qui, cosa c'è qui, è chiuso, è chiuso, e com'è possibile, de sopra aperto, chi è chiuso, guarda un po' i scaffaletti, verniciati, pitturati anni 50, anni, anzi, anni 60, cosa dirò, vabbè, dieci anni dopo, adesso io vado su chi, vado su chi, tutto rotto, è chi, posso venire su, guarda un po', il ferro di cavallo, è il ferro di cavallo, chi c'è sarà qui dentro, chi c'è la stalla, vedi, il ferro di cavallo, è un portafortuna, fa un po' vedere se c'è qualcidù, e mamma mia, e mamma mia, guarda lì, le mastelle, anni 60, le mastelle anni 60, guarda che roba, i tavolini, e sa di ziulino buonanima chi, e zia Mimmi puretta, che sta con un piede, al baratro, sta con un piede nella cassa d'amore, guarda un po', un cortello, un cortello, non c'è, manca la lama, manca, manca la lama, guarda lì, navestaglia, cos'è, parea navestaglia, parea, eeeh, guarda, pare che c'è un quadro di un cavallo, c'è Gesù, Gesù, Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come un cielo così intera, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come noi li demettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, ame, guarda un po', che puzza chi dentro, del buonanima del ziulino, e del mammo pure, ne sa del mammo chi dentro, eeeh, che impesta del mammo, eeeh, eeeh, che c'è fa chi, sant'alle, i stivali, vedi, i stivali, e no, mi sai che impesta del mammo, qua, qua cosa c'è, questa è la tuaia tipica anni 50, vedi, anche anni 80, chi c'è, posso venire oltre, eh, eh, oh, qua, qua, qua c'è qua, un cuscini, un cuscini, che impesta, eeeh, le puzza chi, le puzza chi, su cuscini, che impesta, cosa c'è, con me che puzza così, adesso io, accendo la, la torcia, accendo la torcia, sai, le impesta, cosa hanno combinato, chio, hanno combinato un macello, che, tutto in, tutto in giro, tutto, tutto lo spascio, che per terra, guarda che schifo, buttie, contro buttie, eeeh, la puzza mi si porta via, chi dentro, famme, guarda su mastello, che c'ha rubinetto, non ho visto mai, il mastello, qui dentro, chi c'è, eh, ora i bicchierini, anni, anni 70, quelli, anni, oh, chi è, oh, ho sentito il rumore, chi c'è, 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 n'è, c'è, ora un po', ora un po', che coperchio largo, e na miseria, oh, ho sentito il rumore qua, chi mi ritrova, oh, ah, di sopra che c'è il rumore, e di sopra che c'è il rumore, chi è, ora un po', che vecchio armadio lì, che vecchio armadio, antico, come la broda, eeeh, santi che impesta del mammo, buon'anima, l'eterno riposo, donna il mammo, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen, adesso chiudo, a posto, questo, oh, eeeh, ancora, eeeh, e c'è, c'è il coso, chi ci ha ne meso, ci ha ne meso, oh, porca miseria, ci ha ne meso il grasso, per chiudere, allora c'è campene qua, chi tu, c'è campene, com'è che c'è campene, chi, vado a vedere qua su, vado a vedere, vado a vedere qua su, chi c'è, eeeh, eeeh, fa un po' andare a vedere, fa un po' andare a vedere, chi c'è qui dentro queste finestrine, chi, chi me ritrovo qui, chi me ritroverò, eeeh, oh, cos'è, scricchiola, scricchiola qui, su davanzale, scricchiola, eeeh, madonna mia, fammi vedere, fammi vedere chi me ritrovo dentro, chi me ritrovo, chi c'è, eeeh, 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 chi si è incornicchiato qui dentro, fa un po' andare a vedere, guarda che mania, anni quaranta, antica, eeeh, che porta vecchia, chi me ritrovo, eeeh, guarda un po' anche il camì, e l'è vecchio qui dentro, tutto vecchio, tutto vecchiume, posso bucà, posso venire oltro, eeeh, ecchemi è, permesso, avanti fesso, son fesso, non passo, eterno riposo, donna loro signore, risplendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen, eterno riposo, donna loro signore, risplendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen, eterno riposo, donna loro signore, risplendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen, Chi c'è là? Chi c'è sarà laggiù? Chi c'è sarà laggiù? Chi me ritrova? Fa un po' vedere chi c'è? C'è Sant'Antonio, San Francesco, San Francesco, guarda, un legno che c'è dentro San Francesco Eeeh, l'Americo Vespucci, guarda l'Americo Vespucci, dopo c'è la Madonnina Gesù nello specchio Guarda un po', l'è bella la Madonnina Gesù nello specchio Guarda il camì, è il camì, è qua, è il cuscini, c'è il cuscini sa la lavatrice, chissà, chissà che marca è sa lavatrice chi, oh? Che marca è? Domino, Domino, guarda, la marca Domino Candy, oh, la Candy, la Candy, Formula Inox, guarda che roba La Candy, oh, ancora c'è la roba dentro chi, oh, due nella la toaia, di plastica Guarda questo qui cosa usavano chi? Eeeh, un bicchiere lì, e la roba, guarda, il cuscini piccolo piccolo, qui dentro che c'è sarà? Una tarantula morta, stecchita Eeeh, che piatti, che piatti anni 90 Guarda lì Chi è, oh? Sento sbatti, smetto Sento sbatti, chi è, oh? Posso? Vieni oltre, oh? Guarda un po', per levare le ragnatele lì Un manico sta a una canna per levare le ragnatele Guarda, vieni oltre tutto, oh, cos'è, oh, qui è? Qui c'è che io, la camera La camera da letto, oh, la camera dei zombie C'è un vestito dei zombie, oh Fa un po', vedi? Oh, mi regge il pavimento, sì Mi regge Guarda un po' le carini questi poster Questi quadretti Che chicca Chicca e chicca, va Due chicche Sempre chicca Guarda che armadio vecchio che io Che armadio, che materazzi Guarda che materazzi Pare quelli che vendea Con la bancarella mobile Con il camio che venia Verso sotto a casa mia Nei anni Ottanta Diceva Materazzi, materazzi Ammolle, materazzi Abbiamo il materazzo Con la lana A metà prezzo ve lo diamo A metà prezzo Eh, quanto mi piacea Con la pubblicità di col camio Chi c'è che Trento chi, oh? Guarda un po' che mucicotto De una pantegana, chi? Ha dato un mucicotto Perché non sapea più cosa mangià Allora ha mucicato lì Pora pantegana Vabbè qui Fammi vedere Cos'è chi dentro chi ho? Eh Eh, quelli hanno un tappeto È un tappeto Lì dentro sa un maio De nonno bibbo Eh, na miseria Che mobiletti chi Eh, le bello suo quadro De Gesù Giuseppe Maria Guarda che spettacolo de quadro Le bello Che meraviglia Chi c'è? Ho sentito qualcosa Che ci sarà là Adegliano oltre 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 Eh, guarda un po' Guarda un po' che mille piedi Un mille piedi Chissà se è vivo È vivo È vivo Se sta a ritrae Vedi, mi ha visto Se sta a ritrae C'ha paura Povero mille piedi Guarda un po' La presa di curante Adegliano oltre Adegliano oltre C'è qui Lo specchio Non si vede niente Su specchio Guarda che schifo Le brutte De chi è sui scarpi? Se zumbavi? Ve sei le zumbavi? Guarda un po' Guarda un po' Si quadretti Che si fa vedere Un caretto Sa una che suona Sa uno che suona Pure Un caretto De cos'è Su caretto De cosa ne so io? Non lo so Cosa la figura Boh non lo so Adegliano oltre Cosa è un'altra camera Chi? E un coso lì Una gabbia De uccellini E i fiaschi De lì Le reti anni 60 Un copri cesso E qua cosa c'è qua? Qua c'è Un ca Una raffigurazione Un ca Un gattino Guarda Questo qui è Cowan Barbie Cowan Barbie Questa qui è Ecco Fammi vedere E non mi sa che il letto Che il letto Che camera da letto Chi? Porca mi sa che il letto Che materazzo C'è i vestiti Chi? De un zombo Eh Queste le coperte De un zombo Quello cos'è? Cos'è sa fare Chi su mandrillo? Ah Una luce va? Una lampadina Che dentro Chi c'è? Una valicia De nonno bibbo La valicia De nonno bibbo Chissà cosa c'è sarà Dentro sta valicia De nonno bibbo Anni Quaranta E non mi sa che antichità Che antichità Cosa c'è sarà Dentro sta valicia De nonno bibbo Eh? Eh Non lo apro quella lì va È un punto interrogativo Che rimarrà Qui dentro Chi c'è? Eh madonna mia Cos'è? O se spacca tutto O se spacca chi? Arampò un giacchettino Anni sessanta De zio Alberto Buonanima E Una vestaglia De nonno Pincino E chi? Questi cos'è? I materazzi I cosi lì Questi è È un copripiumo Un piumo Da anni Anni quaranta E non mi sa che antichità Una mastella Anni cinquanta E fammi andare via Vado a sta casa Qui dentro Chi c'è sarà? Dentro il suo mobile De nonna Anna Nonna Anna Guarda un po' Guarda un po' La roba Guarda un po' Come si apre Beh il suo mobile Chi? C'è una tenda Anni settanta Oh non si chiude più Una tenda Anni novanta E una tenda Anni settanta Oh cos'è Cos'è Che ha volato via Cos'è Che ha volato via Fammi un po' Andar via Fammi un po' Andar via Chi c'è Chi mi ritorna Chi c'è Ho visto Qualchietù Eh fammi andare via La roba Che c'è Qualchietù Davvero Di fuori Che mi aspetta Ecco Vado via Dentro chi cos'è Cos'è questo Un scaffale Fammi vedere Ah una panca Una panca Chi c'è Ecco Vado via Vado via Ciao casa L'eterno riposo Donna loro signore Risplende ad essi La luce perpetua Riposi in pace Ma guarda un po' Guarda un po' Che bocchissedoccia enorme Che bagno enorme Chi Sa l'armadio grosso Guarda il cesso Guarda il cesso Là giù in fondo E il serbatoio De Eternit Là sopra La tenda Anni settanta Eeeh Che bell'eccesso Lì Che bel Oh cos'ha visto Cos'ha visto per terra Pisto tutti i vetri Hanno appaccato tutto Chi Le grappe Anni Queste anni settanta Le grappe Qua Qua c'è Un'altra camera da letto Guarda un po' Guarda un po' Un quanto Peppia Peppia Il gioco De rugby Professional Model Special Viking Eeeh La La terra Eeeh Una camera Una camera anni sessanta Guarda tutto azzurro Chi Una camera da letto Del fiolo Guarda voi Gli appendini Antichi Anni Venti Anni 1920 Tutto antico Chi Guarda che roba Che Che sport Dietro Del letto Come zio Mario C'aveva un tappeto Zio Mario Dietro il letto E alla mammo Chi O è alla mammo Pare la camera Del mammo Guarda un po' Che letto Chi Porca Mi Se tutto Anni Sessanta Eeeh La sponda Dietro la sponda E il copri Poggia La schina C'era un tappeto Vedi C'hanno emesso Un tappeto Anni Quaranta A lei A lui Ciao Ciao Casa Ciao Te saluto Ecco Adè vado via Chiudo la porta Chiudo per i zombie Almeno non scappene fora Eh no Non si chiude Oh cos'è Oh porca miseria No Oh cos'è Oh Non l'ho ammazzata Non l'ho ammazzata Purina Per fortuna Che non l'ho ammazzata Guarda Una locusta E non mi sei Com'ha zumpato Com'ha zumpato Guarda Guarda che roba Per fortuna Che non l'ho ammazzata Eh Adè qua C'è un altro Par de scale C'è un altro Po de scale Qua va Va Nell'altro Lato De casa Una contro Casa Qua c'è Cos'è C'è una contro Casa Guarda un po' Porta Della Legna Porta Della Legna Adesso Io spegno Spegno La luce E poi Vado via Vado via Però devo vedere Ecco la controcasa Mi regge Su baldacchino Mi regge Il baldacchino Perché Una volta Sono avanti Una casa Mi si è sfondato Tutto Mi si è sfondato Tutto Fa un po' E se mi regge Può essere pure Che non mi regge Adesso vado a vedere Tanto ormai Che so qui Cosa fa Non esploro Pure sta parte Qua Eh Qui c'è Qui c'è Fa un po' Chi c'è Eh madonna mia E cos'è E na miseria Oh cos'è Cos'è che si è mosso lì Ora che palò Che palò Porca miseria Che roba E Guarda che roba Tu Guarda che roba Che macchinario La fresa La fresa E chi c'è Campene Chi Chi c'è Campene Eh C'è un'officina C'è C'è un'officina La carta Eh Fammi un po' chiude Fammi un po' chiude Che chi Che chi c'è Campene davvero C'è Campene davvero Fammi vedere va Ecco va Ho chiuso Vedi La buona educazione Bisogna La lascià come uno Trova Chi però bisogna che Devo stare attenti un bel po' Perché se non mi regge Su baldacchichi Che salissi contento e contenta Se non mi reggi Adè Mi è venuta Una ragnatela Della faccia Ecco Allora Oh cos'è Oh una tarantola Una tarantola Adè Fan puede Fan puede Fan puede Qui c'è Fammi vedere Chi me ritrovo Ah Solo una stanza E solo una stanza Sa un televisore Adesso io richiudo Come ho trovato prima Sa Co te credi Adè E na miseria Che roba Eeeh E il televisore Le racchette Anni 90 Le belle Le racchette Anni 90 Guarda Queste ce le ho avuto Pure io E na miseria E na miseria Che televisio Questa sarà Minerva La televisio Minerva Un gioco Guarda Il Salta Ranocchio Il Salta Ranocchio Guarda Non si vede niente Adesso fammi andare via Va che tanto Inutile Mi vado in cerca Qualche guaio Fammi andare a sperimentare La strada Andò è che va a finire Poi se sta fa notte Quindi devo andare via Eh Le 16 E 15 Minuti Pensa tu Se sta fa notte Se sta Lì ho chiuso L'ho chiuso A posto Posso andare via Tanto qua Tutto aperto E il forno Andò è che sfurnava Nel pa E il vergaro Ha lasciato La fresa Ha lasciato un sacco De Un sacco De strumenti Da lavoro Quanti ce n'è Quanti ce n'è De strumentazioni Da lavoro Abbandonate Che me pude Ne fa comodo A me Eh Per fa qualcosa Se c'è un garage Invece Non ce l'ho il garage Me lo presta Misurella Il garage Niente Non è Niente Non è Tutto Devo dire Ora un po La pattuglia La pattuglia Che mette L'autoveloc Se vedi Così il comune Si arricchisce Allora Fammi vedere Va Fammi vedere Andua finendo Sa strada E poi Così Ritorno indietro Ritorno in parte Perché Non ce posso credere Mi pare che c'è Un'altra casa Abbandonata Oppure c'è Campene C'è una parabolica Dai Basta Basta Le case abbandonate Oggi Per oggi Basta Oggi L'ho sperimentata E due In questo giorno L'ho documentata E due Laggiù c'è Campene C'è un pezzo Abbandonata Un pezzo No Comunque Questa strada Chi è È spettacolare È spettacolare Lassù c'è una villa Vedi c'è un cancello Una villa E che bel posto Peccato che c'è rumore Della super strada Della Della statale Fa molto rumore lì È troppo rumorosa I rumori Da fastidio Però alla fine A qualcuno Gli tiene compagnia I rumori Non so proprio Cusci Fastidiosi Per qualcuno C'è certe persone Che non volene Assolutamente Sentire il silenzio Non volene Sentisse nel silenzio Perché c'ha ne paura Invece il rumore Gli tiene compagnia E non c'ha ne paura E invece Ci vuole pure Il silenzio Ogni tanto Io per esempio De notte Mi tieno La finestra Chiusa a stagno La seranda Chiusa a stagno E tutto quanto Non devo vedere Né la luce Né sentire un rumore Niente per dormire Io ho bisogno Proprio della pace E del silenzio assoluto E non c'ho paura Invece c'è certi Che c'ha ne paura Sta al buio C'ha ne paura A sentire tutto Silenzio al massimo Deve ne tienere La televisione Cesa Non tutti E compagni a me Non tutti Cosa vuoi fare Ognuno è fatto A modo suo Adesso io rio La gioco la curva Da un mestorno E ritorno indietro Qui c'è Una discarica Una discarica Un sacchetto Della mondezza Guarda Vedi Una discarica E là c'è una gomma Un pneumatico Una scatola C'è di tutto Se uno va a guardare Guarda che È pieno Pieno De rubacce De mondezze Cosa vuoi fare Adè io collego Me collego qua Adè cosa fa Comincia a gucciare Sgoccia Per rovinarmi la videocamera Perché tanto Alla fine Non fa niente Non fa niente De niente Purtroppo È una realtà Altro che Altro che Allerta meteo La neve La pioggia E l'allerta gialla Queste E le allerte Entra il cervello Che c'è Dei meteorologi Ci hanno il cervello Allertato E se credene Che guardando La geo-ingegneria Se credene Che fa chissà cosa Ma Purtroppo Si ferma tutto Tutto bloccato A posto Allora Io Me storno Fra poco Voglio vedere Due che va a finire In sta strada E anche oggi Ho fatto qualcosa Vedi Ho documentato qualcosa Di carino Di bello Oltre che Questa strada Deserta Che c'è Campo a sta gente Forse quella signora De prima Era dessa casa qua Oppure Della casa prima Non quella abbandonata Ma quella De prima Ah Qui c'è una strada Che collega la sua Chissà dove Do' Andarà quella strada lì Do' Mi collegherà Forse la strada Che va in Ancona La strada che Il mio Cugino Del secondo grado Il marito De mia cugina Enrica Chica Con lui Siamo andati a casa Siamo ritornati a casa Dall'ospedale Umberto I De Ancona No L'ancisi 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 D'Ancona Quello abbandonato Che una volta Non era abbandonato Praticamente Siamo andati a casa Lì E ha passato Un'altra strada qua Sicuramente Collegherà Collegherà Chi sotto C'era Un fiume C'era un fiume Chi sotto Vedi Scappava fuori All'acqua Adesso è tutto secco Ovviamente Certamente Dopo passava qua Collegava qua Vedi Qui c'era proprio Un torrente Un torrente Vedi Secco al massimo E' tutto secco Ormai E' tutto secco E Io volevo Andar vedendo Che finiva Era un po' Ughetto C'è Ughetto Guarda Necciugia Necciugia No Necciugia Ugo Ugo Ciao Ugo Ughetto Ciucce Pippawa Ciucce Pippawa Bimbaia Ugo Ciao Ugo Come stai Ugo L'è carino Ughetto L'è carino Visto come mi guarda fisso L'è carino Chissà cosa c'è sta fa lì Vicino a quel fosso L'è carino Ughetto E' una miseria Oh Comunque Qua Qua E' Mi sei incredibile E' incredibile Cosa c'è Una piscina Che cavolo c'è Che cavolo c'è qua Però mi devo far i cavoli mia Perché non è mia Casa Cos'è i pezzi della piscina guarda un po' sì sì pezzi della piscina però io devo ritornare indietro perché guarda un po' c'è il ponte c'è un ponte mi sei incredibile incredibile ha cominciato a più vizzicare adesso se mantiene devo camminare più che altro sotto le piante solo che ho fatto un bel pezzo di strada a piedi avrò fatto tre chilometri vabbè me devo stornare andare indietro è le 4 e 20 ora che arrivo alla macchina è notte io mi sa che ho capito un due che va a finire questa c'è il viadotto che passa sotto la strada e quella strada lì è quella che arriva ad Ancona che proviene da Ancona sì che l'ho fatta con Alessandro e il marito di Enrica di mi cugina nel 92 pensa quando zio Alberto stava per di partire stava per andare nell'altro mondo Poro zio che ha fatto un incidente col motorino col garelli e purtroppo su incidente l'ha portato a sbudellasse tutte le costole e poi l'ha portato alla morte e si è sbudellato i pulmoni le costole Poro zio si è schiacciato un tel motorino è andato a sbattere contro tutto quanto il suo interno lì un tel motorino si è sbudellato tutto puretto guarda un po' adesso ho passato sotto la strada sotto al ponte vedi questo è fatto tutto di ferro il suo ponte è tutto di ferro come la conduttura forzata artificiale della scuola delle acque piovane fogne sotto Ancona ho fatto una produzione lì è andata persa perché dopo mi hanno chiuso il canale è andato tutto perso quella produzione lì è stata spettacolare ho rischiato la vita ci ho messo un sacco di sacrifici per farla è andato tutto perso pensa che sfortuna che sfortuna chi è che c'è là quella produzione mia se ce l'hai me la puoi da cuci la ricarico nel canale quel video che io passo sotto Ancona faccio 5 km dentro una galleria piena d'acqua col kayak ce l'hai con la registrazione lì se ce l'hai me fai il favore da dammela in modo che la ricarico nel canale quella è una produzione che ho rischiato la vita al massimo vedi in due che collega l'ala statale quindi è finita la strada qua è proprietà privata fammi stornava sono arrivato fino in fondo volendo se può pure passeggiare qui quando uno ha modo ha tempo possibilità se può camminare pure qui questa strada qui libera è molto bella perché la strada in sé per sé stessa fa schifo però è bella perché è deserta non c'è nessuno c'è campo a poche persone te sei case allora una volta ogni morte di papa ci passa qualcuno però cos'è o? che malloppo è sopra il suo albero? cosa c'è? ah è il ramo tagliato che pare che c'è un quadro in realtà non c'è niente eh ha cominciato a più vizzicare e niente di fatto però niente due gocce in tutto speriamo che duri per un mese intero almeno se due gocce cosa vuoi fare? adesso io mi sto mi sto stornato mi sto incamminando un'altra volta per raggiungere l'automobile poi non da facasolio perché sono maso a secco al massimo è fatta finita e finisce pure oggi questa giornata mi sono svegliato alle 5 e mezza di mattina stamattina sono partito alle 6 e un quarto con mia madre per andare all'ospedale dopo sono moriati tardi e mi sono scappate tre produzioni oggi niente non è tre produzioni però mi hanno consigliato da fare i video su Twitch però su Twitch ci posso fare pure ci posso fare solo e solamente le live ma le live cosa fa le live a chi discorre io chi mi segue su Twitch chi c'è chi c'è chi lo conosce Twitch è una piattaforma che io non ci ho messo mai le ma non ho fatto mai niente su Twitch però c'è sempre la seconda volta quindi la prima ci sarà la seconda forse ci sarà chi lo sa comunque io ho capito da che collega sta strada questa è la vecchia strada statale che è stata ormai abbandonata e ci passa solo chi è che ci campa tutto lì se no apposta è sfaldata è tutto perché era la vecchia strada statale che collegava Sirola e Numana dopo c'è stata fatta con la strada laggiù e si è evitata sta strada qui apposta non ci passa niciù solo chi è che chi è che sta in queste case abitate però io devo sbrigarmi devo darmi una mossa fino alla macchina prima che se fa notte fonda perché se no a notte fonda vede uno con la videocamera in tale ma la gente si insospettisce più di quello che si insospettirebbe vedendome di giorno perché di giorno bene o male dice quello fa una passeggiata però può essere pure che va a riprendere qualche casa che non deve ripiare per privacy non si può fare però il luogo pubblico tu lo puoi fare puoi ripiare tanto più a me o se c'è qualche casa come quella di prima tutto aperto senza niente senza cartelli senza niente tutto aperto tu puoi riprendere quanto ti pare puoi fare il documento video senza problemi se la casa invece fosse chiusa con i cartelli e tutto allora non ci puoi fare non puoi assolutamente riprendere documentare niente guarda che bella strada guarda guarda quanta strada ho fatto io guarda guarda che roba la vecchia statale 16 vedi guarda un pneumatico quante gomme ho incontrato guarda lì che macello quante ce ne saranno dell'ambiente apposta il padre eterno presto manderà i suoi angeli a purificare la terra e prima che manda gli angeli i quattro elementi ci penseranno a purificare la terra poi gli angeli di Dio infine prima però i quattro elementi quindi gli elementi della terra purificheranno la terra stessa pensa tu che bello quindi che cosa sarà il fuoco che farà diventare tutti gli elementi di discarica tutta la rubaccia chimica o la plastica tutto nell'ambiente verrà tutto fuso tutto fuso gli elementi si dissolveranno e andranno un'altra volta a far parte delle materie prime sottoterra sotterranee tipo il petrolio il petrolio non è altro che un liquido organico deposto sotto terra di tutti gli esseri che c'è stato in quel pianeta da quando Dio ha creato gli esseri quindi tutto il liquido degli esseri e tutto il plasma di tutte le creature che il liquido che è andato a finire sotto terra e l'uomo l'ha tirato su per fare il greggio per fare il carburante la carburazione quindi tutto quel tutto quel petrolio serviva per per far sì che da una placca tettonica e un'altra faceva da cuscinetto da ammortizzatore non essendoce più questo petrolio tra una crosta tettonica e un'altra allora i terremoti sono più intensi più forti perché non c'è più la guaina che ammortizza non c'è più e quindi non essendoce più non c'è più una guaina come l'acqua l'acqua forma una guaina allora il petrolio lo sta andati da fuori tutto e due che c'era lo spazio che c'era prima il petrolio che faceva l'ammortizzatore non c'è più niente più l'acqua ormai se sta secca tutto perché non piove quasi più per via dell'irrorazione chimica quindi dove c'era l'acqua c'era dove c'era l'acqua prima adesso cosa c'è c'è il vuoto quindi è una crosta tettonica e un'altra da una in un'altra dove c'era l'acqua prima dove c'era il petrolio prima e non c'è più niente quindi che significa dal momento che non c'è più niente allora a quel punto per questo c'è dei terremoti molto più intensi molto più forti infatti adesso i scienziati quello che aveva previsto il terremoto nel 2016 che nessuno ci ha creduto ha previsto un altro terremoto molto più grande nelle Marche nella provincia di Macerata e nelle Marche ha previsto un terremoto molto più grosso molto più forte perché dai dati rilevati lui ipotizza che ci sarà un terremoto gigantesco delle proporzioni inimmaginabili però non si sa quando ha detto presto è presto è imminente e quindi ci dobbiamo preparare questo terremoto e questo non ci ha creduto nessuno l'altra volta ma il terremoto è successo non è che è stato lì ha perso tempo è successo quindi ci sono delle persone che hanno dei carismi dei talenti particolari che prevedono certe certe sciagure certe come posso dire certi avvenimenti che sono imminenti che dopo succederanno ci hanno queste capacità speriamo che si sbaglia invece però l'altra volta non si è sbagliato nessuno ci ha creduto tutti l'hanno trattato da matto però è successo Amatrice è stata rasa al suolo e tutti gli altri posti sono stati distrutti e un macello è successo il terremoto c'è un sacco di paesi abbandonati Camerino che era una città importantissima per l'università tutte le università tutte scuole contro scuole e Camerino è una città fantasma tutto chiuso recintato c'è i militari non faccio danni pare che vai a rubare chissà cosa tanto tutta la rubaccia dentro le case ormai è andato tutto tutto in sfascio tutto in sfasciume ormai tutta la roba è andata male non puoi rubare più niente tanto se prima c'erano i ladri che si spostavano dalla bassa Italia andavano su a rubare ormai cosa te rubi più tutta quella gracia che c'è dentro con le case cosa rubi più c'è poco da rubare tanto la roba dentro le case si è ruvinata tutta si è consumata si è tarlata c'è poco da rubare poi cosa vai a rubare un paese morto che ormai è abbandonato sarà sempre abbandonato non ci sarà più mai più il modo da ristraurarlo da ripristinarlo perché tanto i governi non fanno niente se speriamo speriamo invece che riuscissero qualcuno a fare qualcosa ma ci credo poco ci credo poco ci hanno le casette i tre mutati ha fatto le casette il governo le casette pure mio zio abita in una casetta zio Pierino abita a San Severino in una casetta fratello di mio padre abita in una casetta ha detto sta tanto bene è pensionato sta bene le bollette non le fa pagare ma io cusci ha i tre mutati le bollette non le fa pagare stanno niente la casetta a posto però la gente è delusa perché se credeva che il ristauravano chi è che ci comanda se credevano che questi questi abitanti di sei città di sei paesi terremutati che ormai abbandonati se credevano che coloro che comandano ne facene qualcosa per restaurare per ripristinare tutti i paesi e invece no tutto nell'abbandono più totale ha fatto le casette ma la gente in tre quattro persone in una casetta piccola piccola non riesce a abitarci per tanto tempo vanno in esaurimento da una casetta noi la fanno e chi è che erano abituati a averci una casa grossa che andava tutto allo sfascio non è abituato a stare a una casetta piccola è un macello un macello ha portato i guai neri seri il terremoto per non parlando di adesso adesso tutto quello che sta succedendo porta proprio al completo e totale esaurimento depressione la fine dei lavori dell'attività un macello un macello è la fine è la fine è la fine della generazione tutto ultimato si puretti che ci hanno avuto il terremoto e non se l'aspettavano mai un terremoto di grandi dimensioni a chiudere un paese intero ci rendiamo conto a chiudere un paese il paese di Camerino Amatrice da Salzuolo Norcia ha un macello tutto rotto e tutti i paesi intorno le frazioni tutto rotto tutto lo sfascio è un casino la gente che c'era una casa che aveva affaticato di tre generazioni il bisnonno il nonno il genitore il figlio tutto ereditato il figlio ha perso tutto tutto perso tutto arrotoli quindi ti rendi conto che roba c'è famiglie distrutte la gente che c'era un'attività è tutto distrutto finito chiuso quindi ti rendi conto quant'anni è sofferto se senti quant'anni è sofferto sul terremoto disastroso però cosa significa che purtroppo per tutto questo inquinamento che non fa una goccia d'acqua non fa una goccia d'acqua non nevica più questo porta porta i disastri prima o poi tanto due che nelle falde acquifere che prima erano piene d'acqua perché piovea ogni 3-4 giorni a settimana non piove mai una volta ogni 3-4 mesi piove adesso è in due che stava l'acqua prima che c'è il vuoto quindi quel vuoto provoca il terremoto se c'è un altro terremoto è ovvio che è enorme il terremoto le proporzioni in mani cose che mai successe prima perché prima piovea spesso adesso non piove più non nevica più quindi quello provoca i terremoti più forti anche le radiazioni tutto quello che c'è nell'aria che è chimico tutta roba chimica bario tutti gli elementi metallici in polvere sotto aerosole nell'aria che non provoca le perturbazioni questo porta alla siccità totale le falde acquifere che prima erano piene d'acqua perché c'erano le nevi le piogge e tutto adesso sono vuote e il greggio il petrolio sta sempre stanne sempre e prende a prelevar prelevar non c'era il petrolio prima che c'è adesso è il vuoto quindi tutto sto vuoto sotto terra provoca i terremoti più grossi più distruttivi di prima quindi è ovvio pensamoci ragionamoci famosa riflessione purtroppo la realtà di oggi è questa ci troviamo in una in una situazione gravissima di pericolo di gravissimo pericolo vedi che ancora è giorno anzi se sta fa notte però io ancora procedo verso la macchina mi mancherà ancora un chilometro e mezzo per arrivare c'è questa casa che c'è campi ne vedi illuminata c'è due luci ho fatto bene prima a non darci a parte che è chiuso cosa ce va e anche oggi ho fatto una passeggiata vedi vado a casa più tranquillo perché a camminare è antistress e vado a casa più più rilasciato e più forte perché a camminare mette la forza mette l'energia e eccoci quindi ragionando ragionando riflettendo non è solo un inquinamento per terra nelle discariche dei secchetti della mondezza i pneumatici delle macchine la mondezza in genere tutta grascia dappertutto per terra ma è anche la mancanza di piogge e di nevi che porta questo grave danno all'ambiente allo spazio che c'era sotto terra pieno d'acqua prima c'era i riservatoi pieni d'acqua le marche era una regione una delle regioni più piene d'acqua che c'era in italia adesso è una delle più secche ormai si eccita totale dappertutto non piove più non nevica più non fa più niente non ci rendiamo conto che prima ha cominciato a gucciare pareva chissà cosa faceva apposto è finito tutto è finito tutto e poi ha messo l'allerta gialla l'allerta gialla che più nevicava guarda cosa fa niente il nulla tutto nuvoloso Babbo ha preso l'ombrello oggi è partito con l'ombrello se credeva che più era vedi l'illusione degli anni 60 gli anni 50 l'illusione della generazione vecchia se più all'ombrello pensando che piove vedendo il suo tempo per il tanto quella volta più era quando era nuvoloso c'era più era non è che stava lì nuvoloso non faceva niente adesso non fa più niente perché vedi quelle strisce lì guarda vedi quelle strisce lì quelle strisce dritte tutta chimica quella tutta chimica irrorata nel cielo e dopo distrugge le perturbazioni naturali se 2A piove non piove se 2A nevica non nevica apposta non fa più niente è ovvio che c'è i terremoti più grossi e poi anche l'elettricità che provoca tutta questa rubaccia chimica per aria anche quella provoca le cariche elettrostatiche e le cariche elettrostatiche rimbalzano sottoterra e provocano i terremoti più disastrosi quindi purtroppo ci troviamo in una realtà molto pericolosa molto pericolosa e chi è che c'è una casa mezza che è lessa deve stare attenti a abitare lì deve stare molto attenti perché al primo terremoto casca giù purtroppo la realtà è questa stiamo attenti stiamo svegli perché la catastrofe è all'ordine del giorno e della notte può essere pure che arriva nella notte durante la notte mentre dormimo c'è casca giù il soffitto morimo posto finito chiuso dipartimo dipartimo la di partenza è un problema grosso serio e noi non potremmo fare niente per questa faccenda potremmo solo chi è che c'ha i quattrini che mi sta a guardare poi le solo cambia a casa affasse una casa di legno oppure di ferro in un pian terreno a posto il pian terreno ci vuole una casa a pian terreno e basta no al secondo al terzo al quarto al quinto se viene un terremoto è distruttivo il terremoto casca giù tutto crepi oppure c'hai un miracolo che se ti affidi al padre eterno reciti sempre l'usario più i sacramenti e tutto può essere pure che c'hai un miracolo che non crepi del tutto eh potassi pure che rimane illeso e illesa comunque io adesso ti saluto sono arrivato alla macchina guarda un po' la potevo parcheggiare un po' più in dentro perché era meglio perché proprio in te quei cartelli la devo ad affagasolio anche se a te non ti può fregare meno e niente io ti saluto e ti ringrazio che hai visto questo video se vuoi vederlo un altro mi raccomando iscriviti al canale perché ci ho messo cinque anni l'altra volta per i 60.000 iscritti adesso è tre anni che sto online e 15.000 manco manco iscritti di prima ciò pensa i tre anni di sacrifici neri a rimettere tutti i video di quelli di prima un macello e poi me ne è partiti e mi è andato persi mille video che ho rischiato la vita mi è andato perso un macello di materiale per causa di quelli che me invidiene e me odiene ad aiuto e saluto vi benedico a tutti aspetta mi sistemo un attimo l'albero della vita e alla prossima ciao l'albero della vita 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 l'albero della vita